turca che sta sbarcando su Mediaset. Ma prima di aprire ogni particolare, scopriremo la trama, il cast e sfuggire da Istanbul. Ma si troverà come protagonista Zuleya, interpretata da Hilaz Ugur Gunes, per poter vivere una vita felice con lui. Lei è una sartina, mentre lui è il meccanico Bastieterre di Kukurova. Quando la ragazza viene venduta al suo fratellasto Veli, Mustafa haci l'uomo. A quel punto Adi Hilmaz non rimane altro che fuggire e cambiare identità, ma Zuleyla non è ad Adana, dove si presenteranno come fratelli di fronte alle persone di cui fanno conoscenza. Ad Adana la coppia contano il loro amore tormentato e le vicine.